Radio Radicale, siamo in collegamento con Pino Pisicchio, che come sapete è stato parlamentare, è un docente universitario e soprattutto un saggista, ma anche un poeta. E noi proprio di poesia vogliamo parlarvi, ricordando un anniversario importante. Tra poco cadrà l'anniversario dei 60 anni della pubblicazione di una poesia di Pasolini, Nenni 1960, 1960 tra parentesi, che venne pubblicata sul Quotidiano Lavanti il 31 dicembre del 1961. La poesia risaliva circa un anno prima, credo alla fine del 1960, ed era dedicata al leader socialista. Molti si sono chiesti perché di quella poesia di Pasolini, considerando che lui era vicino al Partito Comunista, se non proprio organico al Partito Comunista, col quale aveva avuto tanti scontri. In quegli anni Pasolini aveva avviato una collaborazione per un settimanale importante legato al Partito Comunista, credo Via Nuove, dove teneva una rubrica di grande successo e dove non aveva mai citato, tra l'altro, Pietro Nenni, molti dei suoi scritti, almeno quelli che sono raccolti nel volume Le Belle Bantiere, edito da Garzanti. E con Pino Pisicchio vogliamo capire un po' di più di questa poesia che, lo ricordiamo, risaliva e riguardava i fatti del governo Tambroni e la possibile nascita del centro-sinistra. Allora, Pino Pisicchio, mi scuso naturalmente per l'introduzione un po' lunga, ma forse era necessaria. Le volevo chiedere innanzitutto da poeta, volevo chiederle come aveva trovato questa poesia, se in qualche modo l'ha spiazzata e cosa pensa di questa poesia. Ma intanto mi permetta di dirle una cosa, un complimento, una congratulazione, un'adesione alla sua ricerca, perché è stato molto bello da parte del ricercatore, cioè chi mi sta intervistando, recuperare questa lunga poesia in forma di prosa, come sempre nello stile pasoliniano, dedicata a Nenni. Una poesia che era stata sepolta dalla storia ed anche fuori dal ricordo dei militanti comunisti che, peraltro, come forse diremo tra un po', avevano attraverso la dialettica e la dialogica dei suoi più importanti testimoni della cultura comunista, avevano in qualche modo successivamente criticato questa impostazione. Questa poesia è una poesia che esprime una simpatia nei confronti di Nenni, una simpatia, lo dice in modo molto chiaro, molto aperto. C'è un brano, lui acerbo con gli occhiali, basco da intellettuale e quella faccia casalinga romagnola. Celebra questa faccia casalinga romagnola sia nella dimensione di coprotagonista della stagione frontista, quindi quando Nenni, comparri e togliatti faceva questa grande esperienza frontista tentando la vittoria che non venne alle elezioni del 48, anzi registrando una sconfitta notevole e una donzina d'anni dopo, per la verità un anno in più, 13 anni dopo, il nostro poeta si domanda se è possibile passare una vita sempre a negare, sempre a lottare, sempre fuori dalla nazione. Ecco, è un punto di domanda che si pone il militante, perché Pasolini come ricordava lei, pur essendo esterno alla nomenclatura comunista, ma ha sempre stato militante comunista, votato comunista, ma un punto di domanda che si pone di fronte ad una vita di opposizione a cui si condanna il Partito Comunista, mentre invece alla vigilia di un percorso nuovo per la sinistra, perché Nenni è pur sempre espressione della sinistra, di una sinistra frontista addirittura, ecco, si apre una possibilità, una speranza di governo, perché in sostanza il Pasolini politico dice al Pasolini romantico e poeta, se noi non esercitiamo un ruolo di governo, noi comunisti, noi sinistra a questo punto, non esercitiamo un ruolo di governo, la nostra esperienza politica rischia di diventare un'esperienza sterile. Questo è il punto di domanda che viene posto in questa lettera, che viene anche argomentata, viene anche chiosata con un'espressione del tipo, una lettera di solito ha uno scopo, questa che scrivo non ne ha. Quindi quasi a chiedere scusa per l'artire che ha avuto di spezzare anche un certo muro conformista del Partito Comunista, che certamente non guarda di buon occhio all'esperienza del centro sinistra, che di lì a qualche tempo si sarebbe realizzato. Quindi io vedo in questa poesia, che è totalmente nelle corde del poeta Paolo Pasolini, è stato poeta ma è stato anche notoriamente grande regista, è stato prosatore, è stato saggista, è stato editorialista si direbbe oggi, se me lo consentirà più avanti parleremo anche di questo suo ruolo di grande intellettuale, capace di sollevare dibattiti. Ecco, questo punto di domanda e anche questa riflessione, una lettera senza scopo, alla fine raccontano tutto di questo uomo della sinistra, pieno di domande e che si fa anche le domande che non si dovrebbero porre da comunista. Dunque, ti ha sorpreso vedere questa poesia pubblicata su un giornale di partito, in particolare sull'Avanti, cioè ti ha fatto effetto? Sì, mi ha fatto effetto, soprattutto per quel che stiamo dicendo della sua vicinanza al PC, guarda, guarda, guardi, insomma vediamo il nostro dialogo con quale interlocuzione deve muoversi. Io credo che non esista una chiesa più rigorosa del PC degli anni 50, 60, 70 in Italia, non era così rigorosa, non era così orto concluso, quello che poteva essere il conservatorismo di qualche ambito cattolico della destra democristiana, lo era molto più il PC. Il PC non avrebbe mai tollerato che un suo esponente si prendesse la libertà di aprire le porte pubblicamente ad un personaggio come Nelly che si apprestava a muoversi verso un lido che era un lido certamente non accettabile da parte del PC, per andare a fare governo con i democistiani. Tant'è che poi nell'intervista di qualche anno dopo, che pure sottopone all'attenzione, questo atteggiamento in parte viene anche ritrattato da Pierpaolo Pasolini perché in fondo la sua militanza è una militanza di fede nell'ambito del PC, pur essendo un uomo molto libero, pur essendo un intellettuale autonomo, ma è un uomo che ha sempre votato PC e continuerà a votare comunista, come dice lui stesso nell'altra intervista. Quindi c'è questo elemento di novità e questo elemento anche di libertà che voglio apprezzare. Dunque, c'è in questa poesia il ritorno a un elemento comune nelle poesie di Pasolini, ovvero le coincidenze. Allora lui ricorda che il 1960 era un anno bisestile come il 1943, perché tra l'altro le dimissioni di Tambroni, che diciamo è l'oggetto, anche l'altro oggetto di questa intervista, perché di questa poesia che viene scritta all'indomani della caduta del governo Tambroni, Pasolini tira in ballo il 25 luglio, che tra l'altro Tambroni si è proprio dimesso in quei giorni lì, un po' come aveva fatto con un'altra celeberrima poesia, quella su Pio XII, che aveva creato dei grossi problemi all'editore Bompiani che venne mandato via dal circolo della caccia di Roma, dove veniva tirato in ballo la figura di un certo Zucchetto, che era un ragazzo sfortunato che era nato lo stesso giorno di Pio XII e che aveva subito una sorte molto diversa da quella di Pio XII durante la guerra e che era stato oggetto delle accuse di Pasolini. Allora, le coincidenze vengono utilizzate spesso da Pasolini e insomma il modo anche di presentare le sue poesie era fatto anche per sollevare tante polemiche, così come era successo nel caso della poesia di Pio XII, anche se qui ci troviamo in un campo un po' più buono da parte di Pasolini nei confronti di Nenni. Sì, non c'è dubbio, l'evocazione del 25 luglio, il gran consiglio del fascismo, l'ordine del giorno grande, questo clima particolarmente plumbeo viene richiamato, come ricordavi, in questo schema di coincidenze che si appartiene appunto ad una tecnica evocativa pasoliniana. Ma devo dire, ciò che viene fuori anche con questa poesia, come sarebbe bello se oggi si leggessero degli editoriali in forma di poesia, così come avveriva con Pasolini. Ricordavamo prima, Pasolini è stato un editorialista e questi interventi, seppure su una testata di partito, l'avanti notoriamente il giornale del Partito Socialista italiano, poi lui le continuerà, continuerà più avanti fino a quando nel quindicenne successivo, fino a quando poi non è morto tragicamente, peraltro se ricordo bene proprio nel mese di novembre del 75. La notte tra il primo e il 2 novembre? Qual era il valore dell'editoriale di Pasolini? Era un valore straordinario, ci sono dei suoi interventi che hanno rimasto a piedi miliari nella cultura italiana, pensiamo alla contestazione giovanile e alle facce dei poliziotti che andavano a contenere le manifestazioni realizzate dai figli di papà che qualche volta si sentivano di sinistra e quindi esercitavano la loro possibilità che altri non avevano, che non avevano i poliziotti. Ecco, questi bellissimi interventi che erano editoriali, ma avevano dentro anche poesia, oppure la scomparsa delle luciole, quest'altro intervento che credo sul Corriere della Siera, assolutamente straordinari, rappresentarono la testimonianza della capacità di questo intellettuale totale, regista, poeta, scrittore, saggista, anche con una fortissima vocazione politica, questo intellettuale totale di stare nel dibattito pubblico e anche di impostare il dibattito pubblico. Ci voleva coraggio in un paese che osannava la contestazione giovanile, perché l'egemonia della sinistra era tale per cui anche questa veniva utilizzata in chiave di politica interna, quindi contro i governi democristiani o di centro-sinistra. ci voleva coraggio in quel momento dire che i giovani poliziotti avevano le facce di proletari, cioè di persone che venivano dalla piccola borghesia e queste facce erano uguali a quelle dei giovani proletari o dei giovani piccoloborghesi. Questo suo coraggio, il coraggio civile che dovrebbe sempre avere un intellettuale e che ha, ma non solo lui, pensiamo per esempio anche al grande valore degli interventi sulla stampa nazionale di Sciascia in quel periodo storico, questo intellettuale oggi ci manca, ci manca, ma ci manca tanto perché non esiste più chi è capace di indicare con parole giuste, con parole vere, con parole di profonda autenticità, di indicare una via, di impostare un dibattito pubblico, in Italia oggi manca l'intellettuale, manca l'intellettuale disorganico, non l'intellettuale disorganico, come fu fisorganico per Paolo Pasolini. Ecco, un'altra cosa che diciamo mi ha sorpreso di questa poesia è lo scritto finale che l'accompagna in coda alla poesia. Allora, Pasolini dice che lui aveva scritto un anno prima questi versi e che le aveva tenuti nel cassetto perché lui scrive me ne vergognavo, sono stati, leggo quello che scrive Pasolini adesso, sono stati buttati giù così in una mattina appunto, come tanti altri che poi non pubblico, ma la vergogna non era solo estetica, era anche morale. Avevo paura che questa lettera a Nenni suonasse come una rinuncia a certe mie posizioni estreme, le uniche in cui posso vivere. E infatti alla base dell'ispirazione di quei versi c'era un profondo scoraggiamento, non lo nego, ma adesso penso che in fondo ho il diritto di scoraggiarmi. Dopotutto ci saranno delle ragioni anche obiettive, oltre che quelle personali, in uno scoraggiamento politico. Allora, come hai trovato questa sincerità di Pasolini nel mostrare questa sua debolezza? L'ho trovato di un'onestà intellettuale straordinaria e qui ci sono i germi di quella difficoltà, di quell'essere con un piede nella sua autenticità di uomo libero, di pensatore libero e con l'altro piede però dentro il perimetro stretto dell'ideologia, ma soprattutto dell'ortodossia a cui veniva richiamato nel Partito Comunista. ho trovato anche la sofferenza di quest'uomo. Vedo nella seconda intervista, quella più tardi, quella di qualche anno dopo, quella del 68, vedo che c'è un elemento di risippiscenza che a me pare di leggere una sorta di risippiscenza necessaria per poter ancora condividere da intranio e non da intranio il diritto della militanza comunista. Quindi trovo l'intervista a Spriano, credo che fosse. Sì, quella prima, dunque lui fa un'intervista con Spriano alla vigilia delle elezioni del 63, dove dice che avrebbe votato comunista per il PC. Poi ne concede una nel 68, in un periodo ancora più lontano, dove rievoca ancora quella poesia che aveva scritto nel 1961, insomma. 61, certo. Sì, vedo in quei interventi successivi, vedo qualche passo indietro. Quindi c'è tutto, c'è tutto Pasolini in quella postilla alla poesia, in questa dichiarazione del periodo passato nel cassetto, scusate, e c'è anche Pasolini nelle interviste successive, quando manifestano a qualche risippiscenza, senza però negare la sua simpatia nei confronti di Nenni. Quindi la grande verità che il PC non voleva comprendere e che invece Pasolini aveva compreso è che poi alla fine è meglio per un uomo di sinistra essere comunque in un governo che sposta verso sinistra, centro-sinistra, una esperienza politica. Dunque, un'altra cosa, noi abbiamo citato quell'intervento di Pasolini nel 1968 sul settimanale Tempo, nella rubrica Caos, dove ricordava la poesia del 1961. Ti sorprende il fatto che lui si fosse dimenticato dove l'aveva pubblicata quella poesia? Perché lui lo dice, prima di dire che Nenni sembrava la persona più simpatica del mondo, aveva detto questa cosa, non si ricordava né gli argomenti né dove l'avesse pubblicata. Non so se dobbiamo conferire vero similianza a questa smemoratezza temporanea, che poi successivamente mi pare recuperata. Però, ripeto, in questo leggo anche una sorta di costrizione esterna, di necessità esterna, non una sua volizione, non un suo atto, non una sua scelta, ma la necessità di contemperare ciò che desiderava con ciò che sarebbe stato giusto manifestare. Anche Pasolini aveva la necessità di trovare punti di equilibrio tra le pulsioni poetiche e i contesti. Purtroppo la sua vita è stata punteggiata da queste necessità. Io scusa se torno al presente, ma oggi sarebbe immaginabile che un intellettuale possa scrivere una poesia per un leader politico. Non so se leggendo questi versi di Pasolini del 1960-61 hai pensato a questa cosa. Ci potrebbe essere un intellettuale che scrive una poesia per un leader politico attuale e ci sono leader politici attuali che possono ispirare una poesia. Lo chiedo al poeta. Guarda, in questo momento storico ci vorrebbe a Chino Perri, Trilussa, per raccontare in forma di poesia la politica o i politici. Pasolini sarebbe sprecato, non c'è dubbio. Pasolini lo vedo come editorialista, come moralista, come grande moralista, perché l'editorialista alla fine è un moralista in grado di mettere in campo dibattiti pubblici importanti, serie sul contenuto fondamentale delle cose. non lo vedo come poeta, vedo il Gioacchino Belli, magari in romanesco, ma con una traduzione in italiano. Bene, allora io se non hai altre cose da aggiungere, perché poi tra l'altro questa poesia insomma apre tanti dibattiti secondo me, io ti ringrazio per averci spiegato le tue valutazioni non solo da seggista politico, ma anche da poeta sui versi di Pasolini e Pietro Nenni pubblicati sull'Avanti del 31 dicembre del 1961. Se non hai altro da aggiungere io ti ringrazio. No, grazie, grazie a te, solo che uno come Pasolini ci mangia tanto, tanto, tanto. Soprattutto il Pasolini che scrive, anche non in forma di poesia, soprattutto il Pasolini scrittore. Grazie. Grazie Pino Pisicchio.